Salve a tutti amici, in quest'ultimo periodo stavo riflettendo un po' sui film e sulle serie tv, quindi volevo condividere con voi questo pensiero. Quando ero piccolo c'erano tantissimi film che mi piacevano e se penso alle serie tv, le serie tv erano, non lo so, più qualcosa di leggero per me, sì, di divertente, ma erano i film che mi prendevano e così anche ai miei amici. Con il passare degli anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, la situazione si è un po' invertita. Si parla più di serie tv, ci si appassiona di più alle serie tv e si ricordano meno i film. Ultimamente addirittura sto vedendo veramente pochi film che mi piacciono veramente e più serie tv. Un po' mi dispiace, vorrei che ci fossero più film che si cercasse di dare una scossa a tutto questo, solo che arrivati a questo punto è veramente difficile. Abbiamo visto tutto, quando vediamo qualcosa diciamo, ah è simile a quello, è simile a quell'altro, ormai non c'è più nulla di originale perché è stato fatto tutto. Quindi, non lo so, adesso sembra che si punti di più sulle serie tv. Poi anche grazie all'arrivo di Netflix che spara serie tv continuamente, ogni volta che accedo c'è una serie tv nuova, incredibile. Questa cosa è sempre più accentuata. E ci sono ormai dei cult intorno a queste serie tv. E quindi mi sono fatto una domanda, perché le serie tv prendono di più dei film, mediamente, generalmente, poi dipende da serie a serie, da film a film. Perché ovviamente sono continuate, sono continuative. Alcune durano da tantissimi anni, ci si affeziona un personaggio. In un film, un personaggio non lo si conosce. A meno che non sia una serie di film dove c'è un personaggio, tipo un supereroe che si conosce benissimo, però... Arriva un film, nei primi venti minuti magari non ci si affeziona tanto al personaggio, dipende anche come è impostata la trama. Si comincia pian piano ad affezionarci, fino a che non si arriva verso la fine del film, wow, fantastico, e poi il film è finito, basta. Non si ha tempo di legarsi al personaggio. Invece, in una serie tv, con l'avanzare delle puntate, ci sentiamo sempre più medesimati, ci affezioniamo al personaggio e l'affezione si consolida, no? Un po', con l'avanzare delle puntate. Quindi è per questo che ci sentiamo più presi. E quindi, secondo me, sarà sempre più facile che le persone si appassionino di più alle serie tv. Secondo me l'evoluzione continuerà in questo senso, sempre più serie tv e meno film, generalmente. Le persone guarderanno sempre più serie tv e meno film. Non so se poi la situazione si invertirà, però secondo me, io la penso così, continueremo a vedere sempre più serie tv. E quindi ci sarà anche un miglioramento nella qualità delle serie tv. C'è però da dire una cosa. Attenzione. Io ho notato troppi fallimenti. Ci sono delle serie tv che partono benissimo, una stagione, due stagioni, fantastico. Poi magari hanno degli ottimi ascolti, continuano per forza e cominciano a perdere. Ci sono troppe serie tv che si stanno rovinando, si sono rovinate con l'avanzare delle stagioni. Secondo me bisognerebbe finirla lì, piuttosto si crea qualcos'altro. Poi a volte si cerca di creare lo spin-off, si cerca di creare quello. Quando c'è un personaggio o un nome che diventa grosso, famoso, si vuole continuare a sfruttarlo in tutti i modi possibili, però si finisce per rovinarlo, secondo me. E tante persone concordano. Poi, ecco, comunque vi do un consiglio, ok? Guardare un film o una serie tv in base ai consigli della gente, ma non fidarsi troppo. Perché tanto io l'ho visto, mi sono visto alcune serie tv e alcuni film che dicevano essere bruttissimi, e invece a me sono piaciuti tantissimo. Oppure mi hanno consigliato un film perché era bellissimo, una serie tv perché era fantastica, l'ho vista ma era così o così, oppure mi ha deluso. Quindi non fidatevi dei giudizi delle persone perché sono soggettivi. E anche se c'è un'oggettività in un film che ha vinto migliaia di premi, bellissimo, fantastico da tutti i punti di vista, anche oggettivi, però a voi può non piacere. Perché comunque conta quello che piace a voi. Quindi un qualcosa di realizzato in modo perfetto da un punto di vista oggettivo potrebbe comunque annoiarvi, potrebbe non piacervi. Ci sono tante cose da considerare, quindi io dico guardate. Guardate perché guardare serie tv, guardare film è comunque cultura e bene o male si imparano tante cose. Secondo me è un bellissimo hobby che c'è da tantissimo tempo e continua ad essere uno degli hobby più amati dalle persone di tutto il mondo. Film e serie tv rimangono ancora un divertimento per grandi e per piccini. Un saluto a tutti.